Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle quattro monete verdi della settimana 7 di Fortnite. Come sempre vi ricordo che le monete nel video non ci sono perché non sono ancora attive, usciranno alle 15 di questo giovedì. La prima moneta si trova qui all'ex squalo ed è facilmente individuabile. Adesso la raggiungo così vi mostro l'esatta posizione. Quindi nella parte a nord di Castello Corallo dove una volta sorgeva lo squalo. Diciamo la struttura è rimasta ma non ha più il nome. Quindi non potete sbagliarvi perché è l'unica presente in gioco. Quindi sorvolate Castello Corallo e arrivate allo squalo qua dove ho messo il punto. Praticamente la prima moneta verde si trova all'interno dello squalo, della struttura o di ciò che ne rimane. Scendete giù qua e troverete la moneta verde ad attendervi qui dentro. Quindi distruggete qua e prendete la moneta verde. Andiamo alla seconda moneta. La seconda moneta verde si trova in un ponte molto famoso che avrete percorso tantissime volte. Ed è qui, praticamente qui dove ci sono le Stark Industries e dove una volta sorgeva la fattoria frenetica. Quindi entrate in questo ponte, vi consiglio di farlo da questo lato perché la moneta praticamente è qua. O entrate e poi dovete rompere il soffitto e salire oppure atterrate direttamente sul ponte qui e noterete la moneta verde qua dopo il trattore. Quindi qui su andiamo alla terza moneta. La terza moneta verde si trova qui dove c'è diciamo il teschio delle vecchie stagioni di Fortnite. La moneta verde la troverete qui dove vi sto portando su queste tubature qua. Precisamente qua. Quindi prendete come punto di riferimento questo. Quindi magari vicino Corso Commercio, vicino il teschio che è questo qua. Vediamo ora l'ultima moneta verde. L'ultima moneta si trova qui a Brughiere Brumose. Qua dove c'è questa casina. Qui vedete. Troverete la quarta e ultima moneta verde su questo tetto qua.